Gli abiti eleganti resteranno appesi negli armadi, niente bicchieri di spumante né prelibatezze varie tra un aguri e l'altro scambiato nel salone di Palazzo Montenegro. E' tempo di crisi anche nei palazzi che contano. E così il prefetto di Brinisi, Nicola Prete, ha deciso per quest'anno di abolire il tradizionale ricevimento serale presso la sua abitazione per il consueto scambio di aguri e di sostituirlo con un sobrio incontro nel salone della prefettura. Un incontro con i rappresentanti istituzionali alle 12 martedì prossimo e lui stesso a scrivere nell'invito in un ambito di assoluta sobrietà. Insomma la crisi comincia a farsi sentire davvero, le risorse cominciano a scarseggiare almeno per il buffet di Natale. E' vero anche che il prefetto con questa scelta ha voluto lanciare un segnale tagliando così i costi superflui in un momento difficile per l'economia italiana e locale. Una scelta condivisibile che sicuramente non gioverà alla società di catering ma che forse farà risparmiare qualcosa. Tanto gli auguri, quelli sinceri, con o senza prosecco valgono lo stesso.